Una conferenza e visite gratuite nel segno della prevenzione Rotary Club insieme ad altri enti e associazioni organizza controlli gratuiti per i tumori cutanei. Quando si svolgerà l'iniziativa? Si svolgerà il 27-28 di questo mese presso la sala San Michene a Fano. Quindi siamo a ringraziare l'azienda ospedaliera per la fornitura di materiali, l'università degli studi di Urbino come sede per le visite, l'associazione a sostegno degli studi oncologici rappresentata qui dal nostro socio Mirko Fanelli. Questo però soprattutto è possibile per la grande disponibilità della dottoressa Sciore Zavare Ardestani, facente funzione responsabile dell'unità operativa di dermatologia e di altri medici da lei coordinati. Velocemente la dottoressa Laura, dottore Augusto Galeazzi, dottor Antonio Genga, Marcella Tommassoli, Fabio Cecchini, Alessandro Benini ed in ultimo Ilaria Minetti. Sono sempre pronti ai service per la cittadinanza. Importante da dire che nell'ultima edizione furono diagnosticati precocemente ben 4 casi di melanomi a persone totalmente ignare. Quindi per quelle persone il service da noi messo in campo è stato veramente un salvavita. Dottore, è necessaria la prenotazione? Era necessaria, abbiamo dovuto chiudere precocemente. Lunedì e martedì abbiamo aperto le iscrizioni online sul nostro sito dell'associazione. Poi i fanesi, siamo alla quinta edizione, quindi sono pronti a questa edizione, alla quinta edizione. Quindi siamo stati costretti a chiudere perché abbiamo della metà, più della metà dei posti disponibili sono stati saturati. L'altra metà, più o meno, delle visite possibili saranno effettuate in loco, in estemporanea. Le persone si presentano con pazienza e aspettano il loro turno. Non è assicurato ovviamente per tutti perché c'è un limite tecnico delle visite che deve essere rispettato, però cercheremo di accontentare tutti chiaramente. Le due giornate saranno anticipate venerdì con una conferenza. Quale sarà il tema trattato? Allora è un collega, nonché amico, che si occupa di tumori e soprattutto di melanoma. È direttore dell'Unità Operativa di Bioterapie e Immunoterapie dei Melanomi all'Istituto Europeo di Oncologia. Si chiama Pierfrancesco Ferrucci. È un'opportunità per la cittadinanza per capire, per innalzare il livello di attenzione. Ci avviciniamo all'estate, quindi insomma è tutto da imparare, è tutto da acquisire per poter elevare la prevenzione primaria, che è importantissimo. A che ora si terrà seminario? Allora, venerdì pomeriggio alle ore 17 al Palazzo San Michele, la struttura adiacente all'Arco d'Augusto. E 17, 17 e un quarto ci confronteremo e condivideremo parecchie informazioni.